Il destino di 300 lavoratori del call center Oli System Start ExiCare dell'Aquila è a rischio. A denunciare una situazione su cui già da tempo c'è la massima attenzione in città sono i sindacati e le RSU. Si tratta di 300 persone che gestiscono due commesse distinte, in particolare quelle di Acea e di poste italiane. La Oli System ha deciso infatti di non partecipare al bando di gara per il rinnovo della commessa Acea a causa di problematiche amministrative portate a conoscenza dei sindacati soltanto due giorni prima della scadenza del bando. In sostanza circa 150 persone sarebbero sottoposte alla cosiddetta clausura sociale e la settimana prossima dovrebbe essere resa nota l'azienda a cui verrà assegnata la commessa. Non solo, sta per scadere anche la commessa di poste italiane che riguarda altri 150 lavoratori. In questo caso l'azienda ha comunicato ai sindacati che non inviterà Oli System Start a partecipare alla gara. Verrà molto probabilmente applicata la causa sociale anche per i lavoratori di questa commessa. Una soluzione da scongiurare perché, dicono i sindacati, l'applicazione della norma senza il principio della territorialità che non è ancora stata riconosciuta a livello normativo costituirà uno scenario assolutamente inaccettabile. Noi stiamo intervenendo con tutte le nostre possibilità sia a livello nazionale che sindacale. Abbiamo parlato anche con il sindaco Pierluigi Biondi, abbiamo parlato anche con la senatrice Pezzopane per fare in modo che nel bando vengano garantiti i perimetri occupazionali del sito di Oli System L'Aquila. Sono più di 300 persone che dobbiamo riuscire a saper gestire nel migliore dei modi e soprattutto in quest'ultimo caso, visto che il bando di posta esce entro luglio, dobbiamo intervenire lì per fare inserire dentro il bando oltre clausola sociale ma soprattutto la sede di lavoro, cioè la territorialità.